Stamattina siamo qui sul tratto finale del fiume Loreto che sfocia nel mare e stiamo per fare la prima rilevazione della qualità delle acque dell'Oreto attraverso i sensori che utilizzeremo per il progetto Udatinos. Questi sono i nostri due sensori che useremo per le rilevazioni. Il sensore giallo misura la durezza dell'acqua, la sua conducibilità e la temperatura. Il sensore azzurro misura il pH. Partiamo con la misurazione del pH. Accendiamo il nostro sensore. Il sensore deve essere calibrato prima di utilizzarlo. Attualmente il pH in questo tratto di fiume è di 8.8. Andiamo adesso a misurare con il sensore giallo la durezza, la conducibilità e la temperatura dell'acqua all'Oreto. Partiamo con la durezza che identifica la presenza di metalli pesanti nell'acqua. La durezza in questo tratto è di 397 ppm, che è la sigla che identifica questa misurazione. Andiamo adesso a misurare la conducibilità. La conducibilità è pari a 836. Infine la temperatura, che questa mattina è di 16.5. Ed eccoci sull'app per l'inserimento dei dati che abbiamo appena raccolti. L'app è raggiungibile collegandosi all'indirizzo web he-r.it slash udcollect slash